La chiesa di Santa Brigida di Sopraccidenza, qui nel Montefaudo, è un luogo molto caratteristico che ha in comune nella nostra provincia, nei percorsi che i pellegrini compivano per andare a Roma, ha l'intitolazione con tantissime altre chiese dedicate prevalentemente sia a Santa Brigida che è a San Bernardo e ci trovano appunto sui cammini sacri che attraversano la nostra provincia. Poi Santa Brigida la leggenda narra che era stata sorta su una roccia dove si era accampata secoli fa una principessa del nord Europa, si presume svedese, che si chiamava appunto Brigida secondo la leggenda, che stava andando a Roma. Ha fatto il campo lì, di notte è stata insidiata dal diavolo che sotto le false spoglie di un pastore ha cercato di insidiarla. Sul punto di cedere al diavolo, principessa Brigida non ha ceduto e il diavolo per dire come reazione al suo rifiuto ha dato una zampata sulla roccia, tanto che si dice che la roccia su cui è stata costruita anche di Santa Brigida riporta ancora il segno delle unghie del diavolo. È una leggenda popolare ma che trasmette valori molto lontani della nostra terra, valori in cui, leggende in cui e tradizioni in cui i viaggi dei pellegrini verso Roma passavano attraverso quello che è adesso il sentiero Liguria e la via della costa. Grazie.